ciao a tutti amici e amiche di barbie show oggi vi faremo vedere gli animali che fanno parte della famiglia di barbie show allora oltre alla nostra piuma che avete già visto piuma ciao saluta i nostri amici che avete già visto anche in altri video vero piumina ehi ciao piumina eccomi qui vi faremo vedere degli altri animali che tipo di animali saranno adesso andiamo a vedere forza eccomi qui in giardino e sono in compagnia di daniele anna chiara e serena ciao ciao allora qual è il tipo di animali avete allora intanto vi facciamo vedere qui abbiamo il nostro tappeto elastico gigantesco troppo troppo e qui sotto guardate cosa ci siamo inventati cosa abbiamo messo venite bimbi abbiamo i nostri due coniglietti due femmine noccioline e neve lei e neve e lei è nocciolina e lei è nocciolina esatto ecco qui hanno tutte qui sotto sono sempre all'ombra e al riparo dalla pioggia qui dentro vanno quando piove stanno più caldi fammi vedere che carini ehi neve neve ciao 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 sei carinissima anche tu locciolina e poi vediamo vediamola se riusciamo a beccarli ecco là ce n'è una la nostra porcellina d'india la piccolina ha 20 giorni quindi è piccolina guardate sta bevendo ecco là oh io non ho visto un bel tubo però eh nonno allora sai cosa facciamo sì adesso gli diamo da mangiare un po di erbetta fresca così vengono qua perché queste due qui sono curiosine vero ciao ma dammi un bacione che carinissima ecco qui neve sta già mangiando adesso proviamo a dare un po di erbetta a quelle eccole eccole sta arrivando la mammina eccole eccole daniele dai spiega allora questa chi è questa è quella che sta arrivando è la mamma vero esatto è la mamma di due i due porcellini d'india quelli eccole eccole che stanno arrivando i piccolini dai venite a mangiare su dai qui c'è l'erba dai 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 vieni dai la mette la attraverso esatto vieni dai anche lei perché sennò con le due furbe si mangiano tutto ehi voi venite poi ce n'è un'altra grande perché noi avevamo preso un'altra porcellina d'india che ci avevano detto che era una femmina invece alla fine era un maschio e quindi sono nati questi due cucciolini e allora adesso il maschio l'abbiamo diviso l'abbiamo messo da un'altra parte poi vedremo se uno dei due dei cucciolini è un maschio adesso sono troppo piccoli per vedere poi semmai lo mettiamo insieme a lui possiamo anche dargli da mangiare daniele dove stai andando e gli diamo anche un po' di pellets quello per loro allora li mettiamo dentro qui un po' di pellets ecco un po' ce l'avevano già così loro fanno fatica ad andare dentro se no mangiano tutto questi due e adesso andiamo a nasconderci perché vedete là c'è la testolina vedete eccola vieni dai andiamo un po' in là che così magari escono ecco 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 oh che carini ecco ecco che sta arrivando anche la mammina oh che dolce che dolce vieni e il maschio dov'è? adesso loro andiamo nell'altro recinto a vedere il maschio ed ecco il maschione vieni no forse dove vai furbetto? allora siccome il maschio si fa desiderare siamo tornati dalle piccoline dalle femmine qui dentro tutte femmine e chiudiamo qui il nostro video degli animali di famiglia ciao ciao alla prossima ciao